Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessantissimo saggio appena pubblicato da Vite e Pensiero che si intitola Manifestare e contrastare il dissenso secoli undicesimo-quattordicesimo a cura di Maria Pia Alberzoni e Roberto Lambertini ai quali come mia abitudine lascio subito la parola per sentire cosa ci raccontano di questo interessante volume. Prego Maria Pia a te. Grazie, grazie anche Maurizio e grazie per l'occasione di poter comunicare o comunque fare presente questo volume appena praticamente appena uscito giusto il tempo di arrivare dal magazzino a noi. E quello di cui parliamo oggi è il terzo volume di una sorta di trilogia, anzi io ho suggerito alla Casa Elettrice di fare un cofanetto anche, dei tre volumi previsti fin dal 2015 attorno al tema del consenso sostanzialmente. Cioè noi abbiamo, insomma, sia io sia Roberto siamo sensibili anche alla storiografia di ambito tedesco, anche francese si intende, e in quegli ambiti diciamo culturali e storiografici il tema in quegli anni, intorno al 2015, comunque dagli anni, ecco circa una decina di anni fa, erano presenti diversi contributi, diversi volumi che centravano l'attenzione non tanto sul consenso, l'autorità specificamente, però c'era per esempio autorità e accettanza, cioè c'era qualche tema di questo genere che era molto, ed era sicuramente interessante perché la storia del Medioevo, lo sappiamo, è molto ricca ed è forse quella che, visto che anche per certi aspetti è abbastanza lontana da noi, si lascia conoscere, si lascia anche interpretare in aspetti che però hanno a che fare anche con noi, perché come nasce una certa concezione politica che ancora in qualche modo noi condividiamo, quindi ponendo il problema, da lì era partito il nostro progetto dell'autorità e del consenso, quindi vedere come interagiscono questi fattori. Abbiamo fatto un workshop nel 2015, poi pubblicato nel 2017, appunto autorità e consenso, e poi da lì ci siamo resi conto che il tema si apriva anche su altre prospettive, così appunto sono poi nati gli altri volumi, sia costruire il consenso e questo ultimo manifestare, contrastare il dissenso, che c'era apparsa un po' la logica conclusione di questa trilogia, perché noi parliamo di consenso perché c'è anche evidentemente spesso un contraltare di questo consenso, cioè elementi che fanno capire invece un disaccordo, comunque un dissenso. È stato interessante perché ci ha costretto innanzitutto a chiarire il significato storico, nell'ambito della storia medievale di questi termini, che spesso sono termini nostri, no? Per esempio il dissenso ci ha creato effettivamente qualche difficoltà a individuare bene qual era il nocciolo del problema. Su questo sicuramente Roberto ci può dire qualcosa, però è stato interessante quello che abbiamo cercato di verificare, cioè di vedere attraverso la documentazione, attraverso le fonti che noi abbiamo, di vedere come era possibile far emergere questi elementi. Direi che il risultato è stato forse anche superiore alle aspettative, sia in quest'ultimo volume che addirittura arriva quasi a 500 pagine, ma anche nei volumi precedenti abbiamo avuto una grande ricchezza di contributi nei relativi ambiti, non solo le istituzioni ecclesiastiche, ma anche i regni, ma anche le realtà comunali, anche logicamente l'ambito del diritto, l'ambito, insomma c'è stato veramente una crescita direi progressiva attorno a questo tema e anche una crescita di interesse, perché abbiamo oltre ai workshop che sono alla base di questi tre volumi, abbiamo cistato recentemente anche una settimana, un seminario di Villa Vigoni, organizzato sempre da Roberto Lambertini e da un collega tedesco, Florian Hartmann, e quindi diciamo c'è stata tutta una rivitalizzazione, se posso dire, di questi temi e è stata anche l'occasione per rivedere, per approfondire i rapporti tra la storiografia italiana, per esempio quella e quella di lingua tedesca, ma ripeto non solo. Quindi devo dire che è stato e soprattutto è stata un'impresa che per certi aspetti stupisce anche l'osservatore esterno, perché abbiamo condotto tutto questo lavoro sia degli incontri, sia della pubblicazione dei volumi, a prescindere da finanziamenti pubblici che pure avevamo chiesto per certi aspetti, però insomma questo secondo me è un motivo di orgoglio, cioè il fatto che abbiamo scommesso su questi temi, su queste angolature, su queste prospettive di ricerca, e mi sembra che il risultato ci abbia in qualche modo, no, ci abbia sicuramente dato motivo di soddisfazione. Ecco, questo volevo in quanto curatrice insieme a Roberto Lambertini dei tre volumi e anche organizzatrice sempre con lui, soprattutto dei workshop che si sono tenuti per una serie di circostanze, soprattutto in Università Cattolica. L'ultimo addirittura era stato online, perché dopo un anno di rinvio abbiamo deciso comunque di farlo in quella forma che sembrava l'unica possibilità appunto per garantire l'effettiva realizzazione dell'evento. Ecco, quindi ora non è che abbiamo, penso non pensiamo di abbandonare del tutto questo tema, perché anzi c'è una richiesta anche dall'estero di interventi nostri su questi argomenti, quindi sicuramente ci saranno ancora delle occasioni per ritornare su questi temi. Certo, io penso realmente, non so cosa ne pensa Roberto, ma penso che questa trilogia sia comunque un capitolo che si può considerare anche completato. Devo dire che quello che hai appena detto mi spinge soprattutto a riprendere la situazione di quando è partito questo progetto, che ormai è qualche anno, come tu hai ricordato, e credo che una certa iniziale tiepidezza nei confronti della nostra proposta di rimettere sul tavolo il tema del consenso fosse dovuta all'idea, o comunque per non dire pregiudizio, che si volesse riproporre la concezione della società medievale come società organicamente compaginata, unitaria, per non dire granitica, in cui si fondava sull'unità di animi delle persone, dei sudditi con i loro sovrani, dei fedeli con i loro pastori, la riproposizione insomma di una visione di un certo medievalismo ottocentesco e anche di certe idealizzazioni del Medioevo come passato da rimpiangere rispetto al caos della modernità dove ognuno pensa come vuole e non è stato perso questo senso della unità. Invece l'idea dietro a questo progetto, e non a caso si è cominciato con autorità e consenso, era fare invece vedere che anche nei contesti in cui si poteva leggere superficialmente l'imporsi di una autorità che si fondava esclusivamente su un richiamo o al sangue o alla prospettiva trascendente e in cui si era una pratica di raccolta di volontà che convergeva. Quindi non assolutamente l'idea di un Medioevo monolitico, ma al contrario l'idea di un Medioevo plurale che si tiene proprio perché svolge delle pratiche di consenso e poi ad un certo momento teorizza anche il consenso per esempio come origine della legittimità o di una decisione o talvolta anche di una istituzione. Quindi non una visione idillica di un Medioevo sempre unito e, come dicevo, organicamente felice, ma di un Medioevo in cui il lavoro del confronto, della negoziazione, della ricerca di una convergenza, diciamo così, si aveva anche nei contesti dove meno ce lo si aspetterebbe. Per esempio eravamo naturalmente stati molto colpiti per ritornare a riferimento che faceva Maria Pia alla storiografia tedesca, il fatto che il professor Schneidmüller, che allora insegnava Heidelberg, era uscito con un saggio consensuale, Herrschaft, che potremmo così su due piedi tradurre potere consensuale, ma che applicava non come per uno storico italiano sarebbe stato scontato alle dinamiche dei comuni italiani, ma alla vita di corte degli imperatori svevi. Quindi il luogo dove si è prodotta anche una ideologia del valore sacrale della funzione dell'imperatore, nello stesso tempo però il senso andava ricercato, certo, non è che volessimo sostenere che Federico I ricercasse il consenso dei propri sudditi pensando ai liberi e semi liberi che abitavano il suo impero, ma c'erano cerchie di persone, di grandi del regno, senza il cui consenso una norma non scritta ma quotidianamente applicata faceva sì che non si muovesse o addirittura potesse trovarsi di fronte a delle critiche anche esplicite se non aveva preliminarmente cercato questo consenso. E da qui siamo partiti. Il volume che stiamo presentando oggi prende in esami secoli undicesimo, quattordicesimo, quindi diciamo il cuore del periodo medievale, forse quello per certi versi anche più interessante e più ricco di mutamenti e di trasformazioni. Ma la mia curiosità era, andava costruito il consenso, non era una cosa quindi che era data per scontata, giusto? Certo, posso... Certo, infatti la cosa interessante, come ha appena detto anche Roberto, è questa idea che abbiamo verificato nel corso dei diversi workshop e dei lavori appunto stampati, è proprio stata la verifica delle modalità con cui si ricercava un consenso. Tra l'altro, un aspetto che era immerso da subito è che non tutte, cioè si poteva benissimo anche governare, essere al potere senza ricercare il consenso. Penso al caso di certe monarchie o certe... Comunque, tutti i sistemi in fondo che non prevedevano un'elezione, per esempio, no? Cioè la discendenza o l'autorità che viene dalla stirpe, dal sangue, questo può risalire anche molto indietro nell'alto medioevo, ma ha una permanenza per tutto, direi sicuramente, fino al basso medioevo e poi anche all'età moderna. Quindi ci può anche essere, paradossalmente, l'assenza nella ricerca di un consenso, perché in qualche modo è ritenuto quasi superfluo, no? Ma invece è stato interessante vedere come ci sono degli specifici ambiti entro i quali è necessario appunto avere un consenso per poter governare. Questo, secondo me, è un aspetto poi, se vogliamo, tipico anche della nostra idea di politica o altro. Ecco, però è stato interessante anche capire che non per tutti era così, no? E d'altra parte sarebbe interessante anche verificare queste, appunto, l'esistenza di una consensuale Herrschaft, di questo fondamento del consenso della signoria. Ovviamente si poteva fare anche per altri ambiti, no? Penso all'impero dei Mongoli. Anche loro eleggevano il Khan, no? Meno secondo i racconti che abbiamo dell'inizio, da Gendis Khan in poi. E appunto, e qui c'erano sicuramente motivi religiosi, motivi però anche di un consenso che doveva essere in qualche modo ricercato. E' chiaro, non ci siamo occupati di questo aspetto per questioni linguistiche, perché se noi lavoriamo sulle fonti, come deve fare lo storico, ovviamente le fonti scritte in mongolo non sono propriamente a portata di mano, almeno per me. Però è per dire che ci sono dei mondi che si aprono anche su questa ricerca e che certo possono essere un discorso di, vogliamo dire, usare la pastoria globale, world history, eccetera, ma proprio a partire da un saldo fondamento documentario, no? Per cui una volta che trovassimo l'esperto del, come dire, del mondo appunto dei mongoli e dell'estremo oriente, sarebbe interessante anche un contributo, sarebbero interessanti i contributi per vedere la differenza proprio di civiltà, no? Nel modo di... Perché in fondo anche una società, una civiltà direi più a fondo, una cultura si esprime soprattutto in merito ai sistemi di governo. Questo è un'questione, secondo me, da non trascurare. E quindi, insomma, ci abbiamo un po' scommesso su questo. Come dicevi tu, i secoli che abbiamo soprattutto praticato erano quelli del Medioevo tardo centrale, no? Dall'undicesimo in poi, ma sicuramente sono appunto secoli nei quali si chiariscono, proprio anche per contrasti interni, penso alla lotta per le investiture, no? Quindi a questo contrasto tra imperatore o comunque tra i re e il papa, ai vescovi, beh, grazie a questi contrasti abbiamo veramente la nascita di una necessità di consenso, di un consenso. Perché? Perché nel momento in cui viene messo in crisi il fondamento del potere in precedenza, bisogna ripartire, no? Tu Roberto facevi l'esempio di Federico I, Federico Barbarossa. E beh, il diritto, la scoperta del diritto imperiale, poi il discorso dello stato di diritto e quant'altro viene fuori come risposta a una, come dire, a una privazione della sacralità che prima c'era. Quindi un consenso, in quel caso fondato sul diritto, nell'altro caso era fondato sul sacro. Ma, come dire, è una realtà molto dinamica e quindi sicuramente sempre oggetto di ricerca e anche oggetto di, come dire, di novità, ecco, da questo punto di vista. Proprio perché una volta che cambia il punto, l'osservatore e la prospettiva, scopriamo, andiamo a toccare o comunque a trovarci davanti a nuovi stimoli, ecco. Poi vorrei aggiungere una cosa, ma poi dopo non dico più nulla e lascio la parola a Roberto. Una parola relativamente un po' alla storia delle copertine, dei volumi. Perché sembra banale, però ci hanno sempre impegnato, soprattutto quest'ultima. Ma, vabbè, eravamo partiti da un'immagine abbastanza nota, però molto utile per il nostro caso, cioè questo di Ottone III in mezzo alla sua corte, composta sia da ecclesiastici, tra i quali probabilmente lo stesso Papa Silvestro II, sia laici, cioè guerrieri, in questo equilibrio trovato dagli Ottoni, ma poi perso di nuovo, poi ritrovato, eccetera, alla situazione invece del mondo comunale, con questa immagine che non è graficamente bellissima, però io trovo molto significativa, cioè questo è un podestà, quindi è un'autorità nuova. E come si rappresenta? Questo è preso dagli annali di Caffaro, no? Quindi, come si rappresenta? Beh, si rappresenta per far capire che è un'autorità con elementi dell'antico. Il colore era rosso, rosso e giallo, l'impero Roma, all'impero di Roma, vedete il manto rosso che è inconfondibile da questo punto di vista. Quindi la novità per farsi accettare si colora, in questo caso letteralmente, però si colora in qualche modo dell'antico. E questo era già un passaggio, no? Per noi. E così, per quanto riguarda l'ultimo volume, ci siamo poi, dopo una certa discussione su, diciamo, rappresentazioni forse più conosciute, ma un po' troppo cruente, ci siamo orientati su questo, non so come farlo vedere, forse così si vede un po' meglio, su questo test, su questa immagine poco conosciuta, perché è tratta dall'aula gotica cosiddetta dei Santi Quattro Coronati, che però rappresenta una concordia, questa virtù enorme che addirittura ha sulle spalle San Paolo e come esempio di concordia forse in riferimento alla pacificazione poi con Pietro al Concilio di Gerusalemme, eccetera, e che con i piedi calpesta un personaggio dove c'è scritto discordia, no? Quindi anche in questo caso abbiamo trovato già, diciamo, nelle fonti anche iconografiche medievali, un sostegno, in fondo, a questa nostra tematica anche, no? In questo caso, nell'ultimo caso, appunto del dissenso. Quindi anche per, qui siamo la fresco della metà del XIII secolo, e anche qua il problema era come comporre le discordie, come in qualche modo contrastare appunto il dissenso. Siamo nel corso dello scontro tra Innocenzo IV e Federico II e ci si rifà a queste virtù. Anzi, vi dirò, nel mezzo dell'aula c'era addirittura Salomone. Ma era per dire che era questo del modo di manifestare e contrastare il dissenso, era un problema, nel caso dell'ultimo, era un problema sentito, c'era. E quindi è giusto dare voce nella ricerca storica anche a questi temi magari fino ad ora non molto praticati, dalla storiografia italiana soprattutto. Sì, abbiamo iniziato a parlare di dissenso, dopo aver parlato di consenso, perché i due aspetti non sono così scollegati come può apparire a primo acchito. Anzi, al contrario, ci sono varie linee di contatto che se noi abbandoniamo quella idea di cui parlavo prima, cioè della società granitica, che poi è un'idea che appunto soggiace anche certe ricostruzioni per cui il Medioevo sarebbe stata la società della persecuzione del diverso, proprio perché era fondata sulla omogeneità, sul consenso voluto a priori, sull'obbedienza, eccetera, allora qualsiasi forma di devianza, di diversità doveva per forza essere repressa e anche in modo estremamente violento. Ora, che nel Medioevo ci sia stata molta violenza, nessuno lo nega, perché ci siano state persecuzioni nei confronti di vari gruppi, sarebbe assurdo negarlo, però è anche vero che c'erano degli spazi, si verificavano, si costruivano degli spazi in cui si poteva anche manifestare il dissenso. Ovviamente ce n'erano alcuni particolarmente adatti che istituzionalmente funzionavano in modo più oliato, per esempio qui in questo volume si racconta delle istituzioni della Corona di Aragona, i cui consigli erano estremamente organizzati proprio perché il sovrano potesse da una parte sentire le varie opinioni e poi cercare di farle convergere per ottenere il consenso a certe sue proposte quando gli riusciva. Altre situazioni invece il dissenso può essere più inaspettato. Addirittura Maria Pia nel suo volume racconta un caso clamoroso di dissenso manifestato di fronte al Papa, quindi con una scena veramente sconvolgente, quasi di mancanza di rispetto all'autorità da parte del protagonista, oppure altre situazioni in cui il dissenso effettivamente ha dei canali di espressione. Ci sono invece delle situazioni in cui il dissenso viene, abbiamo detto, contrastato. Ora, in entrambi i sensi sia viene schiacciato sia invece viene rielaborato e si cerca di integrarlo in un discorso comune. Questo dipende dalle situazioni, dipende anche dalla radicalità del dissenso, di com'è percepito l'alternativa che il dissenso propone. Cioè è un'alternativa senza mediazioni o che viene percepita come tale, allora è molto più probabile che abbiamo delle manifestazioni diciamo di repressione. Però, per esempio, è interessante che non tutti sono d'accordo sulla attività dei tribunali inquisitoriali. Quindi abbiamo un articolo di Parmigiani che è concentrato non sull'attività repressiva dei tribunali inquisitoriali, di cui sappiamo assolutamente non tutto, ma molto, ma sulle manifestazioni di dissenso nei confronti del loro operato che ci sono state, che in alcuni casi, fa vedere Parmigiani, si cercava di reprimere, in altri casi invece si lasciava esprimere. Quindi questo è un po' l'apertura del tema del consenso al dissenso, non è il navigare in acque completamente diverse, ma rendersi conto di un mondo in cui i confini sono molto più labili di quanto ci si immagini in certe raffigurazioni, diciamo, oleografiche del medioevo. Bene, io direi che l'argomento è davvero molto interessante perché ci restituisce un medioevo che non siamo sempre abituati a intravedere tra le pieghe della storia, e quindi a me non rimane che ricordare il titolo e invitare tutti a correre in libreria. Il titolo è Manifestare e contrastare il dissenso. Secoli undicesimo e quattordicesimo, appena pubblicato da Vite e Pensiero e curato da Maria Pia Alberzoni e Roberto Lambertini, che abbiamo avuto il grande piacere di avere i nostri graditi ospiti e che io ringrazio tantissimo. Grazie, ci voglio ringraziare. A nostra volta ringraziamo, nella speranza di poterci vedere presto e magari riprendere anche alcuni di questi saggi. Io invece ricordo a tutti i nostri videoascoltatori di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove troveranno tutte le video presentazioni, compresa questa. Quindi ancora grazie e arrivederci a tutti. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.